Sisteremo domani dopo domani con la campagna pubblicitaria, quindi ancora non è parte possibilmente della campagna, però già è stata data la notizia sui siti, sui giornali eccetera e abbiamo già oggi registrato oltre 300 produzioni di abbonamenti, quindi io mi auguro che con la nuova campagna pubblicitaria mi auguro che ci sia ancora un riscontro positivo da questo punto di vista perché per noi è importante questo discorso economico, ma è importante perché significa che quello che noi stiamo facendo per la squadra, per la città, per la tifuseria eccetera, tantomeno è stato ricambiato dalla riduccia dei nostri sportivi. E' importante anche un'altra cosa, io l'ho dichiarato ieri e l'ho ribadito oggi, faccio una promessa alla città e alla squadra, se noi riusciamo a raggiungere quota 800 abbonamenti noi prenderemo, abbiamo sotto mano un grosso giocatore, la grossa punta a livello nazionale che è disponibile a venire da Grigiano, quindi stiamo aspettando, naturalmente a un posto che è un ripresore, però poi ci sarà il peppo che la città sulla torta, che non mi dite chiede, perché non si roma, quindi sarà la... Forse è vero, Cassano, Cassano, Cassano... La torta è la torta, quindi un'altra invita che voglio fare è commercianti, che sono i professionisti delle ganchese, farmagici, tutti quelli che sono... Non dico di sponsorizzare la squadra, non dico di fare... ma quantomeno acquistate l'alaboramento, l'alaboramento perché significa per noi, devo dire, una boccata d'ossigeno dal punto di vista economico, ma non tanto per le cose cose nuove, ma simboliche per capire che la città ha apprezzato questi nostri sforzi, che la tifoseria veramente ritorna quest'anno all'esseneta perché noi stiamo facendo tanto e vogliamo che quello che facciamo non lo stiamo facendo né per una mia ambizione personale, né per un'ambizione bella, quindi non più, ma stiamo facendo per la città. Oggi è difficile fare in venditoria da qui dentro, oggi è difficile, come dire, cercare di traccare l'orario in determinate situazioni, però è chiaro che l'amore e la passione per questa squadra ci portano a impegnarci sempre di più, quindi un appello raccolato anche affinché ora che parte anche questa campagna pubblicitaria sugli abbonamenti ci diamo un grosso ritorno perché per noi è una cosa importante.